Signore e signori, un altro evento di quelli che lasciano il segno in Galleria Orlando, un altro di quei quadri che ovviamente nel momento in cui è arrivato in Galleria c'è stato un attimo di grande emozione da parte mia e da parte del mio staff, un'opera originale di Pablo Picasso, un disegno originale di Picasso meraviglioso perché parliamo di un'opera di un periodo importante, un disegno originale del 1956 firmato e datato, il titolo di quest'opera è Dimanche, quindi la parola francese che sta per domenica, come se in un giorno di domenica Picasso che in quegli anni si trovava a Cap d'Antibia, nella sua villa di Cap d'Antibia avesse realizzato questo splendido grande disegno dove appaiono queste tre bagnanti veramente straordinari, è un'opera di altissimo livello, un grande quadro, ultimamente quello che si ha visto un po' sul mercato, nelle aste si trattava sempre di cose molto piccole e se vogliamo anche un po' sperimentali. Il quadro di Picasso che invece abbiamo in Galleria a vostra disposizione è un quadro meravigliosamente tipico, meravigliosamente vicino a quel Picasso del periodo blu che poi ha fatto innamorare il mondo intero. Poi sapete che Picasso ha inventato tutto in pittura e questo è un dato di fatto, lui ha inventato tutto quello che c'era da inventare, più di una volta vi ho detto non aprite mai un libro di Picasso perché comincerete a non amare più la maggior parte degli artisti che amate perché hanno tutti attinto da lui. Ecco perché nella tua vita di collezionista hai queste due possibilità, o ti riempi la parete di mille quadri oppure vuoi poche cose ma eccezionali e questa è la tua grande chance di oggi perché se ti avvicini a un quadro come questo, un quadro di Pablo Picasso come questo ti avvicini a un capolavoro che ha una stima che va non al di sotto dei 250 e 300 mila euro per quelle che sono le aggiudicazioni d'asta internazionali che riguardano un pezzo unico originale di Pablo Picasso. L'opera è ovviamente certificata e con autentica di Maya Picasso, la figlia di Picasso che certifica l'opera come autentica ed originale. Inoltre è firmata da lui e lui come vedete dalla firma in alto a sinistra dell'opera dove è chiaramente visibile la sua firma, la data e la parola di Manche che lui appunto in quella domenica mattina ha deciso di realizzare questa magnifica opera. Come vedete il quadro è a dir poco emozionante, a dir poco emozionante perché si parla in questo periodo, negli ultimi anni quello che c'è stato un po' sul mercato sono sempre state delle bellissime litografie, acque porti, ma parlare di un disegno originale vuol dire di uno degli obiettivi di un collezionista. Molto spesso, anzi sempre più spesso mi trovo a che fare con collezionisti tra voi che disinvestono delle azioni o delle cose che hanno in banca perché hanno capito che non gli rendono niente e che vogliono delle certezze. L'unica certezza ovviamente è affidarsi ai grandi veri nomi. Picasso è il numero uno al mondo, non c'è un artista più importante di lui, un artista che costa più di lui, un artista che vale più di lui, non esiste al mondo, non c'è ancora. Ecco perché quest'opera è straordinaria, ecco perché quest'opera è l'opera che fa la differenza e che voi con un colpo di telefono ve lo fate portare a casa. Questa è la cosa che veramente deve farvi riflettere, no? Pensare che uno di voi adesso mi chiama a questo numero 030 7282 900, dice Orlando portamelo a casa e parleremo di tutto quello che volete. Sapete che con Orlando potete parlare di quello che volete, pagamenti, dilazioni, qualunque cosa, io ascolto tutto. Ma quante volte nella tua vita ti può capitare di prendere un telefono in mano e dire portami a casa un Picasso originale, pezzo unico, certificato di questa bellezza. Per questo non è il disegnino di Picasso abbozzato, bruttino, che tu hai visto in vendita a 150 o 200 mila euro. Questo è un capolavoro di Picasso. Per il periodo che ha, quindi non stiamo parlando di un'opera tarda, ma di un'opera di piena maturità pittorica e dove questi sprendi di movimenti e queste figure che risentono dell'amore per la figurazione di Picasso e Bruno Dobrou, come citavamo prima, ecco che vengono leggermente accarezzate dalla mano dolce ma anche rigida di quella cubismo magnifico che lui inventa e che poi fa sì che sia il Picasso amato e desiderato in tutto il mondo. Le ultime aggiudicazioni d'asta internazionali per quanto riguarda disegni di Pablo Picasso, qui c'è una che fa capire l'importanza. Questo era un disegnino, un disegnino di 40 centimetri, 40 centimetri, 79 per 30,6. Ecco, possiamo vedere questa è l'aggiudicazione. questo disegno, 40 centimetri, 79 per 30,6. La stima bassa era di 284 mila euro, la stima alta di 398 mila, l'aggiudicazione, il quadro è stato pagato, 717 mila 318 euro. 630 mila sterline perché è avvenuto a Londra questa giudicazione. Quindi da una stima bassa di 284 mila è arrivato a 717 mila. Ma non è un caso isolato, assolutamente. Ma la cosa eccezionale qual è? È la misura 40 per 30. Il disegno invece in questione, il disegno che abbiamo in galleria e di cui stiamo parlando, è un disegno che misura 56 centimetri per 66 centimetri. Quindi un grande quadro in tutti i sensi e di una bellezza straordinaria come potete giudicare. Certo sono in pochi a poter dire di avere in casa un'opera originale, pezzo unico di Picasso. Uno di voi adesso mi chiama, io glielo porto a casa e prendiamo un buon caffè insieme e parliamo di tutto quello che volete che parliamo. Questo è il momento più opportuno. C'è un'altra giudicazione importante. Pensate, 20 per 30, Pandolfini, Casa d'Aste, un 20-30 del 61. Questo è il quadro. Questo è il quadro. 20-30 vuol dire un coriandolo rispetto al quadro in questione. Bene, quest'opera datato 1961, 20 per 30, stima 120-150 mila, bene 135 mila euro. Un 20-30 del 61. Allora mi domando, quanto costa un'opera di questa bellezza, un'opera, un quadro di questa forza, di questa importanza del 1956 con autentica despertise. Ecco la grande chance. Poi tutto questo avviene alla Galleria Orlando. Io sono ovviamente l'uomo più felice del mondo quando riescono a capitare certe cose. Io che vengo poi da una famiglia di galleristi e di mercanti d'arte, avere un Picasso originale, avere un Picasso pezzo unico qua e potervelo portare a casa, nella vostra casa, di voi collezionisti che mi volete bene da quando ho acceso la rete e forse anche da prima. Ebbene, ecco la possibilità grande che avete, quella di chiamarmi e invitarmi a prendere un caffè. Io, voi e un quadro eccezionale. Questo è lo straordinario Picasso. Io vorrei che lo vedessimo insieme, perché veramente anche stare vicino, grazie a un quadro del genere, veramente ti fa riflettere dell'emozione che ti dà. Perché questa è la forza di un quadro formidabile come questo. È una danza di questi fauni magnifici. Ma soprattutto quello che è emozionante è che tutto questo avviene di Monche, viene in una domenica, nella sua splendida villa di Cap d'Antibes, dove viveva con Jacqueline. Ebbene, il 24 maggio del 1957, Pablo Picasso disegna questo capolavoro. Quattro figure, attenti, quattro figure. Una più bella dell'altra, una più importante dell'altra. La firma originale, autografa in basso a destra. E l'autentica, già presente, di Maya Picasso, sua figlia. Un quadro del genere, un collezionista, un mercante, potrebbe chiedere qualunque cifra, senza problemi. Perché è chiaro che di fronte a un'opera del genere non c'è un numero per dire bene quanto chiedi Orlando. Questa è la galleria Orlando e questa è la mia filosofia di fare collezionismo. Non ho acceso questa rete per straguadagnare, non mi interessa. Voglio fare un collezionismo sano e sicuro e fatto seriamente. Ed è chiaro che arrivare a un'opera di Pablo Picasso come questa è un obiettivo per voi, ma è anche un obiettivo importante per un gallerista come me, che vuole continuare a fare questo grande collezionismo. Questo è il momento in cui ti avvicini a un capolavoro, un capolavoro vero, rinunciando magari ad altre cose. Perché voi siete un pubblico magnifico che ogni giorno compra tanti quadri da me e da altri e invece dici bene Orlando, ora che cosa faccio? Mi compro quell'artista, mi compro quel quadro, mi compro quell'altro oppure voglio il numero uno? Perché questo è il numero uno, questo è il più grande di tutti, è il più importante di tutti. E allora? È una tua scelta personale, dicevo prima, c'è chi si riempie la parete di mille cose o chi vuole un quadro, uno, ma il più grande e il più importante di tutti. Perché Picasso è il più grande di tutti, il più importante al mondo. E questo quadro che state vedendo è l'opera che è sicuramente l'obiettivo più importante di un collezionista arrivare a un quadro come questo. Io vi metterò nelle condizioni di poterlo fare, di potervi avvicinare a una spesa così importante. Perché sapete che come pagamenti la Galleria Orlando è la più elastica del mondo, quindi non preoccupatevi di questo. La cosa più importante è capire l'eccezionalità di quello che vi sto offrendo. Perché tutti i giorni posso presentarvi tutti i quadri del mondo, tutti gli artisti del mondo. Ma un'opera di Pablo Picasso come questa non è una cosa che capita spesso. E se capita devi spendere almeno 300, 400 mila euro. Perché attenti alla misura, attenti al periodo e alla bellezza del quadro. Perché la bellezza del quadro incide tantissimo. Mi è capitato un anno e mezzo fa un disegnino di Picasso piccolino così, un pagliaccetto, un pagliaccio. Un pagliaccio fatto da Picasso. lui era straordinario, spesso si travestiva da pagliaccio. Ebbene, aveva fatto questo disegnino piccolino così, a 18x24, venduto a 75 mila euro. Chiaro? Piccolo così. Questo è un 60x50 più grande del 56 di questa bellezza. Dovrei chiedervi almeno 300 mila. E invece scoprite al centralino. A che prezzo potete vederlo, senza alcun impegno a casa vostra, per parlare personalmente con me di qualunque cosa vogliate parlare. Ma io vi porto un Picasso. Vero, originale. Pezzo unico, unico nella vita. Veramente un quadro come questo è impossibile. Non fare a meno di avere delle grandi emozioni nel terreno a parete. Questo è il momento in cui potete avvicinarvi a qualcosa di eccezionale. Dicendo, ma io ho deciso di comprare quell'artista, ho deciso di comprare quell'altro. Qualunque artista tu hai deciso di comprare, sicuramente non è importante quanto lui. Dedicato a chi di voi è stanca o stanco di sentire promesse. Il mio mestiere è un mestiere fatto di promesse, certamente. Compra quell'artista perché costerà di più, compra quell'artista perché diventerà importante. Tutte promesse vere per quanto riguarda Orlando. Ma poi capita un quadro come questo. E allora tutte le promesse decadono. È evidente. Perché questa non è una promessa. Quanta gente vi promette facili guadagni. Picasso, nella storia del mondo, non è mai costato di meno. Più passa il tempo e meno le opere sono disponibili e meno se ne trovano e costano ogni giorno di più. Poi ripeto, è una tua scelta personale. Puoi riempirti la casa di mille quadri ed essere felice e spendere anche molto di più. Oppure vuoi un quadro. O pochi quadri, ma eccezionali. Perché in mano a un gallerista a Monte Carlo, al Principato di Monaco, a New York, a Londra, a Parigi, un quadro come questo. Sentirsi chiedere mezzo milione di euro è niente. È niente perché il quadro è molto bello. È del 56. È archiviato. L'autentica di Maya Picasso è qualcosa di straordinario. Bene. Scoprite a che prezzo Orlando te lo porta a casa. Perché questa è la cosa eccezionale. Perché Orlando te lo porta a casa il quadro. E te lo appende a parete. E allora vai orgoglioso. È orgoglioso di poter dire di avere in casa un pezzo unico di Picasso. Perché ce l'hanno in pochi. E il quadro è veramente eccezionale. Lo rivediamo ancora perché è veramente un'opera splendida. La possiamo rivedere nei particolari perché veramente è un quadro che merita la vostra attenzione e soprattutto la vostra idea di collezionismo. Questo è il quadro che dovete avere in collezione. Staccate, staccate un po' di promesse dalla parete. Staccatele e mettete una certezza. Mettete un nome che cambia la storia. È bellissimo. Veramente bellissimo. La cosa che fa la differenza in questo quadro è proprio questa. Il fatto di essere un quadro eccezionale. Di essere un quadro magnifico. Questo fa la differenza. Stupendo. Quindi avete la possibilità adesso di chiamarmi e di far entrare questo capolavoro di Pablo Picasso che lui disegna in un pomeriggio di domenica. Maggio. Il 29 maggio del 1957. 24 maggio. Il 24 maggio del 1957. Una domenica pomeriggio. Mamma che bello che è. È una danza di fauna. Una cosa eccezionale. Guardate qua. Quattro figure, amici. Un quadro così grande. Così grande e importante. Ha un prezzo così interessante. Ditemi semplicemente quando e dove volete rivedere questo quadro. Ditemi solo quando e dove volete vedere il quadro e io ve lo porto a casa. Oppure venite voi da noi a trovarci. Dovunque abitate io ve lo porto. Prendiamo un caffè insieme quando avete un po' di tempo. Oppure venite voi da me a trovarmi o a Brescia in Galleria o in Toscana e stiamo insieme e parliamo di qualunque cosa vogliate parlare. Sapete che sono disposto ad accettare le vostre offerte, le vostre considerazioni. Io sono incaricato dalla proprietà di questo quadro di offrirlo a un prezzo straordinario. Veramente straordinario. E chiamate questo numero 030 7282900 per invitarmi a prendere un caffè. Io, voi e un quadro formidabile. Poi lo ripeto, chissà quanti di voi dicono Alessandro è il sogno della mia vita avere un Picasso originale in casa. Non è solo il tuo sogno, il sogno di ogni collezionista. Ma finalmente con quest'opera, vista le condizioni di prenotazione, ti puoi avvicinare a un capolavoro simile a un prezzo impossibile a ripetersi. Questo è fondamentale. Chiamate questo numero solo per incontrarci e passare qualche minuto insieme. Io, voi e un quadro che veramente lascia il segno. Questa è la Galleria Orlando. Io sono Alessandro Orlando e in questo momento ti offro una grande opportunità. Quella di fare la differenza. E davvero di, perché no, di staccare qualche promessa dalla parete e mettere l'unica vera certezza del mercato mondiale. Perché con un'opera di Pablo Picasso sotto braccio, tu, i tuoi figli, possono fare il giro del mondo con un quadro così. Tutta la vita. Perché non perderà mai valore. Picasso sarà sempre di più Picasso. Questo è il quadro giusto. Grazie Rudy. Aspetto le vostre telefonate. Le vostre telefonate che potete fare adesso, anche a quest'ora, e chiamare e dire bene Orlando, vediamoci, incontriamoci, prendiamo un caffè insieme, parliamo di qualunque cosa vogliate parlare, pagamenti, dilazioni, mille domande, qualunque cosa. Io sono pronto ad ascoltare qualunque vostra esigenza al fine di mandare a termine questa, e a buon fine, questa trattativa. Ma una trattativa riservata fra me, voi e un quadro davvero splendido. È il momento in cui tu fai una scelta precisa. Di smettere di credere alle favole, di smettere di credere alle promesse e di volere solo delle grandi, importanti certezze. Ma è una cosa che chiaramente non può capitare spesso, è una cosa difficilissima, perché il fatto, pensate, io ho 53 anni, faccio questo sistema da 30, e perché non mi domandate quante volte Orlando ti è capitato un capolavoro simile di Picasso a meno di mezzo milione di euro? Mai. Quando si parla di Picasso i prezzi partano da 500 mila euro in su. Picasso costa ogni giorno di più, sempre di più. Nelle asteri tutto il mondo, da Tokyo, Londra, Parigi, New York, quando si parla di Picasso la gente alza mani e piedi a qualunque prezzo, perché le opere sono sempre meno disponibili, se ne trova sempre di meno, ed ecco che costa sempre di più. Eccolo il quadro della vita, il quadro della vita. Vediamolo ancora in tutta la sua bellezza e soprattutto nel suo fascino. Un quadro che non può e non deve restare senza una parete dove poter essere collocato. Pensate, è semplicemente, basta un colpo di telefono, 030 72 82 900, tu mi chiami e io te lo porto a casa. Fammi trovare uno spazio libero a parete, non ce l'hai? Hai la parete piena di quadri? Ho già detto, stacca un po' di quadri e fai una parete solo per lui, perché lui è il più grande di tutti. Divertiti a pagarlo come vuoi e quando vuoi, va bene, ma togliti una soddisfazione, fatti il regalo più bello del mondo e goliti la vita con delle certezze e non con delle promesse. Questo è Pablo Picasso, il più grande di tutti. Lo accarezziamo ancora con la telecamera, perché veramente è un capolavoro. quattro figure. Dimanche, un pomeriggio di domenica, di maggio del 1957. Magnifico, magnifico davvero. Che quadro, che quadro. Bene, sono sicuro che ha destato il vostro interesse, sono più che sicuro che questo quadro vi piace, sono più che sicuro che siete interessati e sono più che sicuro, allo stesso tempo, di trovarmi di fronte a un pubblico che dice sì Orlando, ma che certezze mi dai su quest'opera? Garantisce la galleria Orlando, Alessandro Orlando e soprattutto l'opera è certificata e autenticata da Maya Picasso, sua figlia, l'unica che possa ritenere un quadro autentico oppure no. E come se ciò non bastasse, questo quadro ha una provenienza molto importante di una nota famiglia, molto importante anch'essa, che ovviamente vi dirò soltanto privatamente. Bene, direi che è il momento più opportuno quando capitano certe cose. Orlando è stato incaricato di proporre questo quadro a un prezzo straordinario. chiamatemi per invitarmi a prendere un caffè e mentre sorseggiamo un caffè insieme o qualcosa di buono da bere, bene, parleremo di tutto quello che vorrete insieme. Questo è il quadro che vi invito a non farvi sfuggire, poi a comprare tutti gli altri artisti avete tutta la vita davanti. Orlando vi trova tutti gli artisti che volete, ma un Picasso originale, pezzo unico del 57, di questa bellezza, né voi né tanto meno io sarò più in grado di ritrovarlo. venite con me, questo è il momento in cui aspetto la vostra telefonata, la telefonata di uno di voi che mi chiama e dice Alessandro passiamo qualche minuto insieme, parliamo di questo quadro. Va bene, ci sto, fatemi parlare con voi, possiamo parlare di qualunque cosa, ma la cosa più bella sarà il momento in cui io vi porto questo quadro e ve lo appendo a parete, perché voi diventerete collezionisti di Picasso e credetemi che al mondo collezionisti di Picasso, pezzi unici, ce ne sono davvero pochi. Con questo vi aspetto, vi aspetto e aspetto le vostre telefonate fin da adesso anche a quest'ora, 030 72 82 900, tu puoi chiamare questo numero e questo numero serve solo a fissare un appuntamento e trovarci o a casa vostra o venite voi da noi a trovarci nelle nostre gallerie o a Brescia o in Toscana. Facciamo due chiacchiere e parliamo di qualunque cosa. Questo è il momento, forse uno dei momenti della mia carriera, della mia vita davvero più alti, potervi suggerire un'opera di Pablo Picasso di questo livello. Vi aspetto.